E' ormai un dato di fatto che lo sfasamento climatico detta legge in città con l'aumento dei livelli di smog e in campagna dove la natura è in tilt con fioriture anticipate in molte regioni d'Italia. Anche la Liguria si inizia a colorare soprattutto di mimosa, con la fioritura avanti di almeno una settimana sul ciclo naturale e in anticipo di ben 40 giorni rispetto all'appuntamento della festa della donna. Il rischio ora è che il ritorno del freddo comprometta l'annata del settore, che fornisce il 90% della produzione italiana di questo fiore. E' quanto afferma Col di Retti Liguria a seguito del monitoraggio sugli effetti del meteo estremamente mite registrato in molte regioni d'Italia, con temperature massime fuori dalla norma stagionale e carenza significativa di precipitazioni. Una situazione che smentisce addirittura i proverbi sui giorni della merla 29, 30 e 31 gennaio, in cui, secondo la leggenda, si dovrebbero registrare le temperature invernali più basse e dove invece sono attese giornate quasi primaverili. Ad oggi in Liguria sono già in fiore ginestra e mimosa, presenti soprattutto nel ponente Ligure, dove circa 1500 aziende coltivano specie la mimosa in modo ecocompatibile sui tipici terrazzamenti. Col di Retti Liguria punta l'attenzione sui pericoli per le aziende floricole della zona. La mimosa sta risentendo soprattutto del forte vento, che rischia di rovinare il fiore.